Il 2014 è un anno che ha luci ed ombre, perché se effettivamente continuiamo a cogliere questi segnali di ripresa è probabile che il 2015 sia un anno positivo proprio anche in termini di equilibrio tra domanda e offerta e una ripresa più sana delle dinamiche retributive. Direi che chi ha un lavoro sicuramente in questo momento da un punto di vista retributivo potrebbe avere qualche segnale di ripresa partendo da però anni di difficoltà e quindi di difficile rapporto tra la capacità, il nostro potere d'acquisto e poi le retribuzioni che noi in generale guadagniamo. Quindi sicuramente in questo momento il mercato ci sta dando qualche segnale di ripresa però c'è ancora molto da recuperare. I dati confermano un trend che è presente in questi anni in modo costante. Il nord-est è un mercato competitivo, la provincia di Venezia è un mercato ancora più competitivo rispetto anche alla stessa regione. Quindi sicuramente il nord-est e la provincia di Venezia continuano a mantenere, come posso dire, un posto di primo piano. Grazie.